Ciao e bentornato su Impara DaVinci Resolve. Da oggi entriamo nella Edit Page ossia la piattaforma di montaggio all'interno di DaVinci Resolve e partiamo dall'inizio ossia dalla creazione di una timeline. Prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti e sulla campanella destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Quindi la creazione di una timeline sulla Edit Page. Siamo nella Edit Page. Questa è la pagina dedicata espressamente al montaggio all'interno di DaVinci Resolve. Abbiamo già affrontato il montaggio attraverso la Cut Page dove l'obiettivo era fare tutto il flusso di lavoro il più velocemente possibile. Quindi se hai necessità di fare tutto con velocità sicuramente ti consiglio la Cut Page. Se vuoi fare un montaggio a regola d'arte con tutte le potenzialità degli strumenti di editing di Resolve ecco ti conviene passare dalla Edit Page. Per uniformarci all'interfaccia comune andiamo su Workspace e andiamo a resettare il layout. In questo modo ci portiamo tutti più o meno alla stessa configurazione dell'interfaccia di Edit. Prima di andare ad analizzare bene tutti i contenuti dell'interfaccia dobbiamo fare il primo passo in assoluto ossia creare una timeline. La timeline è il nostro foglio bianco dove dovremo andare a disegnare il nostro montaggio. Senza il foglio non possiamo creare nessun lavoro quindi nessun montaggio. E ora andiamo a vedere quali sono i modi per creare una timeline. All'interno di Resolve è possibile creare più timeline ognuna con un suo compito e una sua funzionalità. Quindi possiamo creare più montaggi all'interno di un medesimo progetto. Per fare le cose organizzate conviene andare a creare una cartella all'interno del master che mi contenga tutte le mie timeline. Andiamo ad aggiungere una cartella. Per farlo andiamo sottolare al master tasto destro New Bean e quindi creiamo qui la cartella dedicata alle timeline. La chiamiamo timeline. ossia qui dentro andremo a creare tutte le timeline che ci serviranno. La prima timeline che dovremo creare sarà un po' la nostra bozza del montaggio, il nostro montaggio provvisorio. Seleziono la cartella, vado su file e vado a cliccare su New Timeline oppure CTRL N nel caso di Windows o CMD N nel caso di Mac. Ed ecco che si apre il menu di configurazione della timeline. Vediamogli un attimo questi elementi. Innanzitutto ti chiede il timecode di partenza. Se vogliamo uniformarci ad altri software come ad esempio Premiere Pro possiamo partire con timecode 0. Possiamo dare il nome alla nostra timeline. Lo chiamiamo ad esempio RowsCut, quindi la nostra prima bozza del montaggio e poi possiamo andare a definire quante tracce contiene la nostra timeline. Queste sono le tracce di partenza. Chiaramente poi dopo le potremo aggiungere in corsa quante ne vogliamo. Allora supponiamo che ci possano bastare due tracce video, una come traccia principale e l'altra per mettere l'immagine di copertura sia i b-roll e due tracce audio, una per i dialoghi e l'altra per la colonna sonora. Ti chiede la tipologia delle tracce audio, supponiamo di avere un doppio canale, quindi traccia stereo. Qua sotto ti chiede se vuoi partire da una timeline vuota, quindi senza niente e pian piano l'andremo a popolare, oppure tutte le clip del media pool utilizzando la selezione marchine mark out. Questa cosa adesso non ci interessa perché sul media pool adesso non abbiamo dato un ordine specifico. Andiamo a mettere empty timeline, cioè partiamo da una timeline vuota. Su quali caratteristiche si basa la formazione di una timeline, cioè qual è la risoluzione, il frame rate, la forma del pixel eccetera, è quella definita in fase di progetto. Abbiamo già visto in un precedente tutorial di cui ti riporto il link in descrizione come andare a definire i parametri di una timeline a livello di progetto. Ecco se io non fisso nient'altro all'interno di questo quadro, Resolve utilizza i parametri definiti a livello di progetto per la creazione di una timeline, altrimenti li posso andare a personalizzare. Quindi vado su use custom settings, vado nel formato e ad esempio qui posso cambiare il formato della mia timeline e altri parametri che riguardano il monitoring e l'output. Per il momento adesso questi non li tocchiamo, supponiamo che vadano bene quelli di base, quindi io ho creato a livello di progetto una timeline in full hd a 24 frame al secondo. Una volta che ho definito tutti questi elementi faccio create. Ed ecco che all'interno della cartella timeline viene creata la timeline rough cut, circondata da un riquadro rosso più un segno di check nell'angolo in alto a destra. Vuol dire che è la timeline attualmente attiva sul pannello timeline e anche nel viewer in alto ha identificato il nome della timeline attiva, ossia rough cut. Esistono però altri modi per costruire una timeline. Ad esempio andiamo sul master. Se e se non ho nessuna timeline selezionata posso andare a cercarmi una clip di partenza per la mia timeline. Supponiamo questa facendo doppio clic si apre nel pannello viewer. Questo è il viewer della sorgente che differisce da questo viewer in quanto si tratta del viewer della timeline. Adesso vado a selezionarmi un pezzo di clip che mi può interessare. Ad esempio questo può essere un buon punto di partenza e vado a fissare un punto di attacco, ossia un mark in, premendo il pulsante relativo oppure l'ho sciorcata a tastiera i. Mi fisso un punto di arrivo, cioè un punto di stacco. Clicco sul pulsante mark out oppure sullo sciorcata a tastiera o. Allora se adesso io trascino questa clip all'interno dell'area della timeline che è vuota cioè non ha nessuna timeline costruita e la trascino all'interno mi viene creata una nuova timeline. Come è stata creata questa timeline? Innanzitutto mi ha inserito la timeline direttamente nel master. Dovrò prenderla e trascinarla all'interno della cartella timeline. Se la selezione vado nella media page all'interno dei metadati io vedrò che la timeline seguirà le impostazioni di progetto della timeline. Un altro modo per creare le timeline è sfruttare le bins, cioè i raccoglitori. Supponiamo di voler costruire una timeline basata su queste clip. Su quale ordine? Lo decido io in funzione di alcuni parametri dei metadati. Ad esempio io cambio la vista da icone ad elenco cliccando sul bottone relativo e supponiamo di ordinarle in base al timecode, cioè in ordine crescente di timecode. Adesso andando a selezionare la cartella e andando a cliccare sulla prima voce create new timeline using selected bin, ecco si apre la configurazione della timeline come avevamo fatto inizialmente, mi chiede i parametri e a questo punto io ad esempio scelgo anche qui 0 e la chiamiamo timeline gopro. Lasciamo una traccia e una traccia audio e faccio create. Ed ecco che mi viene creata una timeline con tutte le clip accodate in ordine di timecode crescente. Riprendo la mia timeline e la metto nella cartella delle timeline così ne ho già due. L'ultimo modo che vediamo è utilizzare non tutte le clip di una cartella ma solamente una selezione. Vado ad esempio sulla smart bin drone, ritorno nella vista icone e vado a selezionarmi solamente alcune clip. Mi seleziono queste clip, faccio tasto destro e vado a cliccare su create new timeline using selected clip. Adesso scrivo ad esempio drone e mi viene creata una timeline sulla base dell'ordinamento delle clip presenti all'interno della cartella. Prendo la mia timeline drone e la metto all'interno della timeline. E ora la mia cartella timeline contiene tante timeline. Se ad esempio ne voglio duplicare una, perché quello è il mio punto di partenza, ne prendo una, faccio tasto destro e vado a cliccare su duplicate timeline. E' chiaro che tra tutti questi metodi il metodo che preferisco è il primo, perché hai completo controllo di tutto quello che stai facendo. Partire da una timeline vuota ti permette di creare il tuo montaggio provvisorio nella maniera più personalizzata e controllata possibile. Se hai delle domande in merito alla creazione di una timeline nella edit page ti invito a farla qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per andare avanti a parlare di montaggio all'interno della edit page.